Diego Marani, buonasera e benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per condividere il suo nuovo libro pubblicato dalla nave di Teseo, l'uomo che voleva essere una minoranza. Diego Marani, leggo nei risvolti di copertina, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, è stato per lungo tempo funzionario dell'Unione Europea e ancora a Parigi per l'Istituto Italiano di Cultura, Diego Marani? Sì, sì, sono sempre qui, sempre ai posti di combattimento. Sempre ai posti di combattimento e che cosa si combatte a Parigi? Ma non si combatte, ce la passiamo bene qui perché la cultura è amata e io ho un fitto pubblico che non si perde uno dei miei numerosi eventi. L'altra sera ho avuto una serata gastronomica con un concorso di salama da sugo ferrarese, 5 erano le salame in gara, 50 gli invitati tra diplomatici e giornalisti, cultura e anche la gastronomia e domani apura una mostra di arte contemporanea. Lei ama giocare facile con la salama, ama giocare veramente molto facile ed è giusto, la cultura passa anche per il cibo e la cultura è importante. Parliamo, Diego Marani, dell'immagine di copertina di questo libro, ce la vuole far vedere con parole sue? E' un uomo solo, un uomo solo che va verso, come Teodorico sul cavallo che lo butta giù dal burrone, va verso la disfatta, cerca di redimmersi, di esistere, appunto cercandosi una minoranza in cui distingue e invece va verso la distruzione perché sbaglia strada senza troppo rivelare. Cerca la libertà, cerca la propria identità e quindi l'individualità, accanendosi ad appartenere a una delle minoranze protette che oggi conosciamo, ce ne sono sempre di più, mentre invece la libertà la si ricerca nell'universalità, nei diritti per tutti, non si è liberi uno alla volta, non si è liberi da soli, si è liberi tutti insieme. Questo forse è il messaggio più forte del mio libro, comunque quello essenziale che ho voluto trasmettere con questa storia. La storia di Rodolfo che da ragazzino fa il barbiere e lui ha questa grande passione, ha una vita tranquilla come tutti o quasi, alle sue abitudini è conformista come tanti, ma il fatto che lui voleva essere una minoranza è una cosa che determina il suo carattere, la sua figura. Lei alle minoranze, Diego Marani ha dedicato molta attenzione anche molto studio, minoranze linguistiche per esempio. Sì, la minoranza linguistica è la mia passione, intanto perché non si dovrebbero chiamare minoranze, nulla è minoranza, quello che definiamo minoranza va troppo vicino alla parola minorato, tutti possiamo essere maggioranza se ci consideriamo tali, ma le minoranze di cui parlo in questo libro sono altre, sono queste minoranze un po' artificiali, un po' inventate che vediamo nascere nel mondo moderno e che sono appunto una ricerca di tutela, di riconoscimento nel mondo dell'omologazione e della globalizzazione che tutto livella, che ci fa avere negozi tutti uguali, cibi tutti uguali, vestiti tutti uguali e che spazza via le originalità dei mestieri e dei territori, ecco che l'uomo, l'individuo cerca un modo per emergere, per distinguersi, per non farsi cancellare da questa livellazione. Il mio personaggio tenta diverse vie, quella della minoranza linguistica, quella della minoranza religiosa, quella dell'invalido e tutte portano a un tragico fallimento che poi alla fine è anche tragicomico. È anche molto tragicomico, però qui veniamola alla cosiddetta minoranza linguistica che Rodolfo di Professione Barbiere decide di seguire, ovvero sceglie l'esperanto. Qualcuno forse si chiederà che lingua sarà mai? Il mio personaggio è un personaggio che vive nel grande mare Padano, nella bassa emiliana, nello specifico ferrarese, ma che potrebbe essere qualsiasi altro luogo indistinto come è il nostro paesaggio. E quindi quando si mette a cercare una minoranza linguistica non ne trova, torno a sé, la più vicina è a 300 chilometri. E allora trova l'espediente di perseguire questa minoranza linguistica degli esperantisti. Ma qui io mi sono ispirato qualcosa di vero, di autentico, che ho sperimentato, che poi del resto racconto nel libro, all'Agenzia delle Entrate di Ferrara c'è il distributore del numeretto per fare la coda, che offre il servizio in tantissime lingue, decine. E fra le tante c'è anche l'esperanto. Allora mi sono incuriosito e ho premuto, io che sono un fissato delle lingue, ho premuto il tasto per avere l'esperanto, ma mi è venuto fuori un numero come un qualsiasi altro numero e ho immaginato che allo sportello non avrei trovato nessuno che parla esperanto. Quindi mi sono chiesto questa libertà che ci viene offerta e questa particolarità di servirci anche in tutte le lingue del mondo. Quanto è vera? In realtà è un'ipocrisia, non è vero niente, non c'è dietro allo sportello qualcuno che ci può parlare in tutte quelle lingue. Ecco, da questa falsità, da questa ipocrisia ho inventato la mia storia e chiaramente cercare di parlare esperanto nella bassa ferrarese, ecco, si ha il seguito che si può immaginare. E questo vale per la lingua, ma vale anche per i rapporti tra le persone, anche per i rapporti con la persona amata, perché a un certo punto lui dice, vedi Norma, dopo una certa età un uomo e una donna che stanno insieme da tempo non possono più sentire l'attrazione di quando ci si conosce, fin qui tutto normale. Ci si abbraccia per abitudine, per bisogno fisiologico e così via. E allora che cosa si può fare per superare tutto questo? Perché non si tratta di sole, cuore e amore qui, è qualche cosa che va ben oltre e che cosa cerca dunque Rodolfo? Sono venuti a mancare a lui, come a molti di noi, i legami, i legami che creano il tessuto di una società. Oggi chi vive in un quartiere oppure in un paese, ma anche in una città, raramente ha contatti e legami con la gente che è attorno. Dorme in un posto, lavora in un altro, mangi in un altro ancora e non c'è più appunto quello che chiamavamo una volta anche poeticamente il tessuto sociale. E in fondo anche Rodolfo e sua moglie Norma soffrono di questo, perché vivono nella stessa casa, ma uno guarda il computer e quell'altro la televisione. Non c'è più rapporto, non c'è più condivisione. E anche i compaesani di Rodolfo lo osservano, lo compatiscono, ma non c'è più quella rete di relazioni che una volta proteggeva anche l'individuo. Io penso, anche io vengo da un paesino della provincia federalese, quindi conosco questa realtà e noto come oggi appunto tutto sia scucito. Un tempo c'era spazio per l'eccentrico, per l'originale, perché non veniva deriso, non veniva condannato, veniva accolto e come dire custodito, protetto. Era uno di noi, faceva parte del nostro mondo e quindi se si comportava così in modo strano o anche se era il pazzo, il matto del villaggio, ce lo tenevamo e lo proteggevamo. Oggi invece ognuno è abbandonato come Rodolfo e Norma, alla solitudine della mancanza di relazioni e di comunicazione. Ecco, tutto qui credo. Ma questo viene anche dal fatto che appunto non c'è più la bottega, non c'è più il mestiere, non c'è più il contadino che abita in campagna. Oggi la terra agricola è di grandi proprietari che non ci vivono più nella campagna. Quindi la campagna è vuota, non è più abitata. È un deserto. Questo forse esprime meglio l'ambiente in cui si trova a vivere Rodolfo. E Rodolfo sente questo vuoto anche quando vuole partecipare all'attività della comunità ebraica. E qui ancora un'altra docente, cocente delusione. E qui sentiamo proprio abbattersi su quest'uomo, se ricordo bene, scrive una colata di sconforto che lo paralizzo. Ecco, fa tenerezza quest'uomo che si sente sempre solo e nonostante lui si sia attrezzato con i filatteri, la kippà, il talede e così via, ma a un certo punto decide di mettere tutto nella borsa e di andarsene. Eh beh sì, anche qui lui cerca qualcosa di irraggiungibile. Aderire alla religione ebraica è impossibile, è una religione di sangue. Quindi sceglie per ignoranza, perché non sa, non conosce qualcosa a cui non può essere convertito. E la sua condanna qui non può essere che l'espulsione, la solitudine e l'abbandono. E lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori come finirà questa esclusione, questo abbandono, se ci sarà una possibilità di risalita per quest'uomo così normale, questo Rodolfo, e se potrà avere uno spazio per trovare una parola che possa chiamarsi speranza, redenzione, oppure un'altra parola. L'uomo che voleva essere una minoranza. Il libro che abbiamo raccontato insieme con Diego Marani, libro pubblicato dalla nave di Teseo, ma prima di salutarci, Diego Marani, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ho appena ordinato, e lo sto leggendo, un libro inglese di Helen Joyce, che si intitola Trans, e parla un po' profondamente della questione del genere, del cambiamento di genere della solidità. E questo è uno dei due libri che ho proprio ricevuto oggi. Quell'altro è di Giancarlo Gaetta, In attesa del regno di Quadlibet, un saggio sul cristianesimo alla svolta dei nostri tempi. Io ho il difetto, la qualità dipende dai punti di vista, che mi sommergo di libri e poi dopo non riesco a leggerli tutti, credo che sia un male comune. E quindi un altro libro che ho sono le poesie di Virgilio Giotti, in Triestino. Quanto le fanno compagnia le poesie nella sua vita, Diego Marani? Beh, le poesie mi fanno molta compagnia, perché io in realtà cominciai a scrivere poesie quando ero un adolescente e le abbiamo fatto tutti. Quindi sono molto affezionato a questo genere. Ma poi ecco, sto scoprendo le poesie in vernacolo, non solo nel mio, che c'è poca roba. Come quello di Virgilio Giotti, tra l'altro. Ecco, esatto. Soprattutto in vernacoli più nobili, ecco, come anche Piaggio Marin, quindi il triestino e il gravese. Perché li riscopro, riprovo, lingue fresche. Lingue, chiaramente fresche per me. Ecco, lingue non conosciute e belle da esplorare per il colore, la vivacità delle loro parole. Ma lei, Diego Marani, lei ce l'ha? Ma lei ha un libro a portata di mano per leggerci qualche verso? Beh, ho proprio qui Virgilio Giotti. E allora? La mia pronuncia triestina non è un granché, però posso leggere la pace, la pace, che sarebbe a casa, dosso me salta una malinconia, che parlo forte solo, se te me vien davanti ti me passa. L'ora te vedi e stago un poco meglio. Se come se te fossi pian vignuda, ti drento, e pian te me g'avessi messo, senza dir niente, i bruci sulle spalle, in ti trovo la pace, in ti me queto. E che bello, in ti trovo la pace, in ti me queto. Anche se non si riesce forse a capire ogni parola, è bella la musica delle parole, delle parole di questa poesia, la pace, la pace. Grazie davvero Diego Marani per averci parlato del suo libro, per averci fatto scoprire questa poesia di Virginio Gotti, poeta. Grazie davvero e buona serata. Grazie a lei. Arrivederci, buona serata. Grazie a lei.